Civil Week 2024 siamo a Buscate insieme all'associazione Volare Insieme e a due volontari di questa associazione, Anna ed Eugenia. Chiediamo subito ad Anna che cosa succede durante questa Civil Week e che cosa stiamo vivendo. Allora, oggi noi stiamo svolgendo dei laboratori con i bambini delle classi quinte della scuola primaria di Buscate, con i ragazzi dei centri per persone disabili del territorio del Castanese. Svolgeremo questi laboratori con l'obiettivo di includere tutte le fragilità e tutte le differenze. Noi siamo l'associazione Volare Insieme e vi invitiamo a partecipare nei prossimi giorni alle nostre iniziative qui a Buscate. E invitiamo anche la cittadinanza a almeno pensare di poter diventare volontarie come Eugenia. Eugenia, chi te lo fa fare di fare la volontaria? Allora, io sono stata insegnante, ora sono pensionata e quindi diciamo che la mia passione per lavorare con i ragazzi e con i bambini rimane viva, malgrado l'età. E quindi ho aderito molto volentieri a questo progetto che mi ha impegnato in questi due anni con queste classi delle scuole elementari e con i ragazzi dei servizi. E ho proprio potuto avere la soddisfazione di capire come lavorare insieme sia utile, come sia bello, come le persone poi stando vicine si annullano le differenze tra abili e disabili. E ho visto proprio questo spirito nascere piano piano in questi due anni. Grazie mille Eugenia, buon lavoro. E concluderei, tornando ad Anna, ti chiedo questa cosa. Anna, in base alla tua esperienza e alla tua scelta di essere volontaria, se dovessi rivolgerti ai tuoi concittadini di Buscate, che cosa gli diresti? Quali motivi ci sono per invitarli a diventare anche loro volontari, negli ambiti che più sono loro consoni? Allora, innanzitutto fare il volontariato vuol dire mettere a disposizione il proprio tempo e avere poi un rimando positivo, insomma un contatto diretto con le persone a cui si presta questo servizio. E quindi si crea una relazione, il bello del volontariato è la creazione di una relazione con l'altro, questo è per me fare volontariato. Grazie mille, grazie a tutti, buona lavoro e soprattutto buona Civil Week!